L'amministrazione comunale di Gioio Sabanea è a caccia del finanziamento che gli consentirà di completare il palazzo municipale di Piazza Cavour, non solo di completarlo ma di renderlo anche più funzionale con servizi strategici per la protezione civile. Un obiettivo che si raggiungerà con il progetto del secondo stralcio esecutivo funzionale. Il bando regionale per chiedere questi fondi è scaduto ieri ed il 29 settembre scorso l'esecutivo di Edoardo Spinella ha dato l'ok per un intervento che prevede tra gli altri nuovi parcheggi e l'aula consigliare. Il primo stralcio funzionale in via d'ultimazione, a breve infatti dovrebbero concludersi i lavori, è la prima tranche del progetto curato dall'architetto Giovanni Claudio Vento e dall'ingegnere Domenico Brancatelli per i lavori di recupero ed ampliamento dei locali del palazzo municipale di Piazza Cavour, centro di servizi sociali, culturali e amministrativi. Nel 2008 e nel 2009 i due professionisti presentarono il progetto generale esdefinitivo ed un progetto stralcio esecutivo per l'impolto complessivo di 2.845.000 euro. Archiviato questo capitolo, la giunta Spinella o la vuole chiudere il cerchio, partecipando ad un bando pubblico dell'assessorato regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, con il progetto del secondo stralcio esecutivo funzionale per 1.080.000 euro, che due giorni fa è stato approvato in via amministrativa ed inviato a Palermo con la richiesta di finanziamento.